Questa opera ha l'intenzione di creare un'immagine di due punti di vista, che in senso uno esterno e un altro interno, perché io penso che l'uomo ha inventato due gabbie, uno per mettere il tesoro dentro, un altro ci mettiamo noi dentro, quindi è quasi una invenzione della storia dell'uomo. Bene e male, sia la parte interna che esterna, ci raccontiamo la nostra storia. Tutti i prigioni è fatto di una gabbia. Quando stai interno della prigione noi pensiamo alla libertà, mentre quando stai fuori esterno la tentazione che ci porta verso l'interno. Quindi questi due conflitti è la nostra storia. Non possiamo nemmeno dire chi è interno è giusto o chi è esterno è giusto, è nostra storia, perché ha bisogno di negativo e positivo per raccontare una storia dell'uomo.